Con il numero 8 proietti, con il numero 10 per l'acqua, con il numero 17, con il numero 18 perccia, con il numero 20 spiti, con il 23 caliti, con il 26 cacentini, con il numero 30 certi, con il numero 32 spara certo. Con il numero 8 proietti, con il numero 3 vitale, con il numero 4 ranieri, con il numero 5 gocci, con il numero 9 di Renzo, con il 27 cacca, con il 29 sbarcuti, con il 21 astobelli, con il 24 mantini, con il 27 ventola, con il numero 12 natale. Allianzate signora Teore Maurizzi. Allianzate signora Teore Maurizzi.